Allora, avevo promesso che avrei fatto anche un video per mostrarvi come si fa a fare un giver cioè un oggetto che quando cliccato dà delle note card o comunque delle informazioni per esempio questo è un cubo, vedete che ruota, ma quello non è importante la cosa importante è che se io lo clicco, cosa succede? vedete che mi fornisce un manifesto, un qualche cosa che io posso ottenere faccio keep, prendi e me lo trovo questa informazione in memoria, cioè sul mio inventario e in particolare me lo trovo, adesso vabbè qui ho tante cose nuove però se io mi limito soltanto alle note card, vedete che qui abbiamo le ultime note card lette questa è Alessandria, eccolo qua, quindi abbiamo questo giver oppure anche se non è nell'inventario, comunque se uno clicca, vede queste informazioni e me le può, e quindi può capire bene che cosa succede nella mia sim tutto questo lo facciamo con scratch allora con scratch cosa vuol dire? che andiamo innanzitutto su un, dunque cerchiamo il nostro scratch sul web quindi scratch flash second life, vediamo un po' se lo troviamo quindi usiamo sempre google come il nostro amico e se va tutto bene dovremmo trovare, spero dunque no scratch flash base, fsl2sl, questo qua adesso qui l'ho trovato in maniera traverso fsl2s che è questo signore qua che non è questo quindi lo cerchiamo, per una volta che abbiamo il nome, fs2lsl fs2lsl, forse si trova più facilmente, eccolo qua redwood colorado edu, lo clicchiamo e quindi arriviamo a questo nostro programma che abbiamo visto l'altra volta vedete che è tutto basato su una finestra flash quindi lui la carica e qui abbiamo un programmino allora quello che vogliamo fare è che quando io clicco il mio tastino mi viene consegnato, il mio cubetto mi viene consegnato qualcosa quindi sensing when I am touched questo allora quando siamo toccati dobbiamo rispondere quindi come rispondiamo con un allora lo cerchiamo qui non è mai molto semplice give note card to quindi give note card to avatar l'avatar questa è la cosa più semplice quindi deve dare un note card to l'avatar ecco qua, l'unico problema è che l'avatar allora qui dobbiamo darlo, deve essere l'avatar che è appena toccato e l'avatar che abbiamo appena toccato lo prendiamo da qua cioè da LL detected key di 0 lo prendiamo anche da questo altro signore quindi prendiamo il clicchiamo selezioniamo solo questo copy e qui gli mettiamo questo allora facendo in questo modo viene generato un LSL vedete che va a prendere la prima note card che c'è nel prim quindi io posso fare copy LSL che è quello vado nel mio nel mio mondo virtuale mi creo un cubo in questo cubo ci metto dentro questo script che chiamiamolo giver chiamiamolo giver lo script l'abbiamo fatto con quel programmino di prima vedete che lui dice in inglese non dimenticatevi di mettere la note card quindi salviamo e poi mettiamo dentro la note card la note card se non ce l'abbiamo già la possiamo creare quindi creiamo una note card nuova nota biglietto a volte scriviamo informazioni su questa sim qui potete trovare le seguenti cose qui potete mettere un sacco di cose addirittura mettere landmark eccetera lo vediamo anche in una reazione successiva però potete mettere veramente tantissime informazioni salviamo la note card gli diamo un nome interessante tipo informazioni sulla sim xxx che è quello che volete e poi dal mio inventory la spostiamo dentro il giver a questo punto cosa succede? succederà che chi clicca qua sopra quindi clicca vedete che si vede recapitata la note card e se la prende se la trova anche nell'inventory informazioni sulla mia sim quindi questo è il modo uno dei modi più semplici che ho trovato per fare un giver usando scratch quindi lo scratch sono semplicemente entrato ripetiamo ho messo when I am touched gli ho messo la give note card to avatar e poi qui per capire cosa mettergli nella parte bianca sono andato un pochino più sotto dove dice give item tal detali e ho preso praticamente tutta questa scritta quindi ho fatto copy e l'ho messa qua dentro questa diciamo è la parte più elementare da parentesi se invece di dare una note card volessi dare veramente un item faccio ancora prima gli do l'item l'item name questo lo togliamo e poi dire se invece di una note card voglio dare un oggetto che chiamo regalo ecco allora quindi facendo in questo modo generate lsl no quindi devo metterlo magari possibilmente in questo caso con gli apicetti quindi gli do un regalo all'avatar e quindi genero questa cosa quindi llgv inventory da regalo quindi una roba che si chiama regalo la devo quindi la coppiamo lsl e facciamo vedere l'esempio anche qua quindi andiamo in qua dentro posso creare un altro cubo qui ovviamente per me sono tutti cubi ma voi lo farete come volete e qui dentro lo script abbiamo il giver regalo facciamo un doppio click gli mettiamo ctrl A ctrl V vedete che fa llgv inventory e qui a questo punto dobbiamo mettergli il regalo e il regalo lo possiamo prendere da qua prendiamo degli oggetti supponiamo ad esempio di voler regalare questo qui è un Wrapped Christmas Gift 5 che possiamo mettere dentro l'inventory del se ne lo lascerà mai fare no non so perché in questo caso prendiamo ah perché è nella sweetcase che sono le cose che prendo dall'hypergrid prendiamo per esempio questo qui Ice Skating AO questo viene messo questo invece gli faccio F2 e lo chiamo regalo tac quindi a questo punto se io clicco questo vedete che lui mi da un regalo prendi e il regalo che ottengo è questo me lo vedo qua un regalo un nuovo regalo che mi viene offerto e che poi la gente lo deve cercare nell'inventory quindi diciamo questo è quanto posso mostrarvi su come realizzare con Scratch Scratch ovviamente vi ho detto questa versione specifica FS 2 LSL ricordatevelo bene così lo trovate prima e poi riesco a fare questo doppio mestiere o quando sono toccato do un item che si chiama regalo oppure in questo caso al posto di regalo potevate anche mettere il nome della note card quindi in realtà può servire anche per le note card e questo permette di dare dei regali quindi credo che per questa seconda parte della registrazione è tutto ci vediamo vediamo se riesco a fare anche la parte sui manichini buona serata grazie a tutti